Illumina i sacerdoti, illumina i sacerdoti, e i Vescovi, e i Vescovi, proteggi noi figli tuoi. Noi ti preghiamo, regina, che tutto puoi, guida col tuo amore la tua e nostra chiesa, e il Papa che vive nel mondo evangente. Evangelizzandolo, noi ti preghiamo, oh regina del Portogallo, Portogallo, prega per noi. Maria, evviva, evviva Maria. Maria, evviva, evviva, evviva. Oh regina di Polsi, evviva Maria. Evviva, 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 evviva Maria. Regina, santa madre benedetta, che accogli nel tuo monte le nostre preghiere. Regina, santa madre benedetta, e i Vescovi, e i Vescovi, e i Vescovi, e i Vescovi. Regina, santa madre benedetta, e i Vescovi, e i Vescovi, e i Vescovi. Regina, santa madre benedetta, e i Vescovi, e i Vescovi, prega per noi. Noi accogli le nostre preghiere degne se degne, Ave Maria di Fatima, Regina del Portogallo del mondo, Noi ti preghiamo, accogli le nostre preghiere, Le nostre invocazioni, Accogli le nostre preghiere, E fai che il Dio è Gesù, Accogli la nostra preghiera, Regina di Fatima, Di Fatima e del Portogallo, Che hai parlato ai due, a tre pastorelli, Accogli la nostra preghiera. Accogli Esaudici, Avvocata nostra dei ultimi, Tu sei, Avvocata dei ultimi. Accogli le nostre preghiere, Regina del Portogallo e della Chiesa universale, Proteggi noi, Proteggi il Papa, Il Papa Francesco, Proteggi noi, ti preghiamo, Proteggi, oh Regina di Fatima. Grazie. 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 E estaba contando ai sacerdoti, Illumina i sacerdoti, E i vescovi, e i vescovi, Proteggi noi i figli tuoi , Noi ti preghiamo, regina, che tutto puoi, guida col tuo amore, la tua e nostra chiesa, e il Papa che vive. Nel mondo evangelizzandolo, noi ti preghiamo, oh regina del Portogallo, Portogallo prega per noi. Maria è viva, è viva Maria, Maria è viva, viva. E viva, è viva, oh regina di Polsi, e viva Maria. E viva, è viva, è viva, è viva Maria. Regina, Santa Madre Benedetta, che accogli nel tuo monte le nostre preghiere. Accogli tutti noi, oh regina di perdono, tu sei, oh Vergine Santa. Tu che accogli noi, pellegrini, accogli noi. Ti preghiamo, perdonaci se noi peghiamo. O Vergine, oh Vergine, oh Gloriosa dell'astro monte, Vergine. Tu sei la regina, Madre di Tio, sei, oh Vergine Madre nostra. Tu sei il scoglio di bontà e misericordia. O Vergine, oh Vergine Maria. Tu sei viva nei nostri cuori. Tu sei il rifugio di noi peccatori. Tu sei il rifugio di noi peccatori. The которой è la regina il nostro lavoro è grecale. Come ci accogli il flyingo, B physique al fi vicino di有沒有 immagino. Traz, avvisich armate. Grazie a tutti. 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 noi pellegrini, accogli noi, ti preghiamo, perdonaci se noi pecchiamo, o Vergine, o Gloriosa dell'astro monte, Vergine, tu sei la Regina, Madre di Tio, sei, o Vergine, Madre nostra, tu sei il scoglio di bontà e misericordia, o Vergine Maria, tu sei viva nei nostri cuori, tu sei il rifugio di noi peccatori, tu sei, o Madre nostra, proteggi noi pellegrini, o Madre, tu che tutto vedi e perdoni, o Maria, prega per noi. Grazie. 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 Ave Maria di Fatima, regina del Portogallo del mondo, noi ti preghiamo, accogli le nostre preghiere, le nostre invocazioni. Accogli le nostre preghiere, fai che il Dio è Gesù, accogli la nostra preghiera, regina di Fatima, di Fatima e del Portogallo, che hai parlato ai due, a tre pastorelli, accogli la nostra preghiera. Accogli esaudici, avvocata nostra dei ultimi, tu sei avvocata dei ultimi. Accogli, accogli le nostre preghiere, regina del Portogallo e della Chiesa universale. Proteggi noi, proteggi il Papa, il Papa Francesco, proteggi noi, ti preghiamo. Proteggi, o regina di Fatima, regina della famiglia, che parlasti a tre pastorelli, giacinta Francesco e Lucia, chiedendo la pace al mondo intero. Regina, tu sei dei cuori, dei credenti, tu sei regina. Proteggi noi, il Papa e ogni credente. Illumina i sacerdoti, illumina i sacerdoti, e i Vescovi, e i Vescovi, proteggi noi, figli tuoi. Noi ti preghiamo, regina, che tutto puoi, guida col tuo amore, la tua e nostra Chiesa. E il Papa che vive nel mondo evangelizzandolo, noi ti preghiamo. O regina del Portogallo, Portogallo, prega per noi. Maria è viva, è viva Maria. Maria è viva, è viva, è viva. Regina di Polsi, è viva Maria. Maria è viva, è viva, è viva, è viva, è viva Maria. Regina, santa madre benedetta, che accogli nel tuo monte le nostre preghiere. Regina di Polsi, è viva, è viva, è viva, è viva, è viva. ju. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh Vergine, oh Gloriosa dell'Astro Monte Vergine, tu sei la Regina, Madre di Tio. Sei, oh Vergine, Madre nostra, tu sei il scoglio di bontà e misericordia. Oh Vergine, oh Vergine Maria, tu sei viva nei nostri cuori. Tu sei il rifugio di noi peccatori. Tu sei, oh Madre nostra, proteggi noi pellegrini. Oh Madre, tu che tutto vedi e perdoni, oh Maria, prega per noi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.